L'ultima parte della progettazione di una didattica per competenze riguarda proprio l'organizzazione delle varie attività che i docenti devono concordare per poter portare avanti il progetto in maniera coordinata. Ovviamente questo se l'unità di apprendimento prevede una trasversalità tra più discipline perché se naturalmente è fatto soltanto dal docente nell'ambito della propria disciplina non ha ovviamente questo tipo di problema. L'organizzazione delle attività è proprio per coordinare il lavoro anche dei vari step che si devono attuare nella classe nel momento in cui il progetto viene portato avanti. Ci sarà il docente che presenterà magari l'unità di apprendimento, l'altro docente che interagirà con i ragazzi facendo un brainstorming iniziale, un altro docente ancora potrebbe iniziare a far fare le ricerche in rete sui temi che vengono trattati all'interno dell'unità di apprendimento. Cioè ognuno può svolgere parti del progetto stesso. Non è che ogni docente deve far tutto ovviamente ma ci deve essere un coordinamento prendendo in considerazione gli obiettivi e le competenze che si vogliono far raggiungere ragazzi come abbiamo detto in tutti questi video sia da un punto di vista delle competenze disciplinari che delle competenze ovviamente di cittadinanza. Un docente potrebbe anche stabilire che nell'arco del mese, dei due mesi in cui svolge questa unità di apprendimento vuole dedicare soltanto dei momenti del proprio orario scolastico perché per sentirsi più rassicurato, questo potrebbe accadere, accade molto spesso, che il docente ci dica io prima di incominciare a lavorare in un modo così diverso, per loro diverso ovviamente quando si inizia, io vorrei dedicare uno spazio limitato a questo progetto perché il resto delle mie lezioni invece le voglio svolgere svolgendo le mie attività di lezione frontale tradizionale perché reputo che certe conoscenze di base loro le devono avere con un'indicazione di tipo di lezione frontale di tipo tradizionale. All'inizio si può fare anche così, in maniera molto pratica perché può rassicurare il docente che non si sente pronto ad affrontare invece un lavoro così integrante e integrato con i propri colleghi che richiede necessariamente anche, come abbiamo visto, metodologie di lavoro diverse e attività assolutamente diverse. In questo senso noi, come impara digitale, avevamo anche all'interno del curriculum mapping organizzato un diagramma di Gantt. No, Marcello? Sì. Ne vuoi parlare? È un diagramma di Gantt che permette di organizzare innanzitutto le fasi che sono quelle in cui tutti dovrebbero trovarsi per fare un lavoro anche in parallelo. E dall'altra parte poi all'interno di queste fasi si possono specificare, questo dipende anche dalla familiarità con certi strumenti, si possono specificare tutte le attività che vengono svolte nelle singole ore. Attività vuol dire, specificare le attività vuol dire nel curriculum mapping, ma anche comunque all'interno di uno strumento di progettazione, diciamo, normale, quello della trattazione degli argomenti, degli strumenti che si usano e eventualmente si può mettere all'interno anche se in questa attività che noi facciamo sarà valutata all'interno magari della singola disciplina ed eventualmente anche se volessimo essere ancora più, diciamo, precisi, anche le metodologie che noi usiamo in quell'ora o in quelle due ore di attività che facciamo. La cosa importante comunque è che ci sia una struttura che è quella appunto delle fasi che deve essere assolutamente seguita da tutto il Consiglio di classe perché poi alcuni aspetti come quella della realizzazione, ad esempio, di un prodotto di solito viene demandata nella parte, diciamo, nella seconda parte dell'UDA e per arrivare, ad esempio, a questa, alla realizzazione di questo prodotto ci deve essere un allineamento di tutte le discipline. Un altro aspetto, secondo me, interessante è che noi dobbiamo prendere questo che sembra uno strumento che ci ingappia, che ci comunque costringe, lo dobbiamo usare in modo molto agile, cioè deve essere uno strumento, quello del diagramma di Gantt e della progettazione di queste fasi che può essere assolutamente rivisto da un giorno all'altro addirittura e che però mantiene una sua unità che è quella che ci si è data all'inizio. Questo perché molte volte quando si fanno queste unità di apprendimento, soprattutto di natura trasversale, ci si deve dare comunque un tempo di massima che può essere quattro, sei settimane o anche otto settimane, che però di massima deve essere rispettato, deve essere rispettato da tutti. All'interno poi di questo diagramma di Gantt va ripreso un argomento di cui noi avevamo già parlato, di Anora, che è quello del monitoraggio, che deve essere riconosciuto in determinati momenti. Può essere un monitoraggio che può essere fatto all'interno delle singole discipline oppure proprio di processo, quindi di come l'UDA sta avanzando e di come i ragazzi stanno lavorando, è compresa anche ad esempio l'autovalutazione in itinere in questo monitoraggio. Ed è importante comunque, ecco anche qui nella flessibilità, è importante comunque decidere quali sono i momenti in cui fermarsi e appunto verificare alcuni aspetti. Sì, e poi è molto importante, come abbiamo messo il diagramma di Gantt, di solito sono poi delle immagini, no? Quando tu l'hai compilato, è un foglio che però diventa un'immagine, quindi diventa statico. Mentre quello che noi abbiamo inserito all'interno del curriculum mapping è molto dinamico, interattivo, in maniera tale che si può modificare una fase anche proprio a livello di calendario, perché può accadere benissimo che io prevedo di fare un'attività nell'arco di questa settimana, per mille motivi io posso non aver compiuto quel tipo di attività e necessito di passare alla settimana successiva. Il docente che con me deve collaborare o che deve seguire le varie fasi, le varie attività, deve aspettare che io termini quel tipo di lavoro per poi poter proseguire in altre ulteriori fasi. E quindi questo comporta che se io lo ho interattivo sul web, non necessito, ancora più in una datica a distanza, figuriamoci, non necessito di interagire col docente via telefono o perché prima lo incontravo alla macchinetta del caffè o in sala professori per chiedere ma a che punto si è arrivato, è terminato, è finito, lo chiede agli studenti. Se lo abbiamo all'interno di un, cioè se è interattivo sul web, noi possiamo semplicemente consultandolo, vedere a che punto si trova il collega che sta lavorando e di conseguenza definire anche le tempistiche del lavoro successivo. Quindi direi che il diagramma di Gantt è sicuramente molto importante per poter fare una programmazione molto strutturata ma necessaria laddove si lavori in team. Perché quando si lavora in team bisogna avere il rispetto dei tempi dell'altro e interagire, coordinarsi in maniera da non sovrapporsi e sbagliare magari le tempistiche nello svolgere il proprio lavoro. Finito questo, anche il diagramma di Gantt e le attività, la definizione dell'unità di apprendimento è abbastanza strutturata, fermo restando, come abbiamo detto, che è sempre in divenire, può essere sempre modificata e soltanto alla fine ci sarà la definizione ultima che verrà consegnata e inserita all'interno della programmazione della classe, del consiglio di classe.